Ciao amici, oggi siamo a Casa Fontana. Insieme prepareremo un coniglio in porchetta, un secondo tipico della cucina marchigiana, solitamente farcito con rosmarino, salvie, finocchietto tritato e all'interno pasta di salsicce e olive, ma nel periodo e nella stagione corretta, quindi a maggio, solitamente vengono inserite anche le favette di fratte rosa. Iniziamo a lavorare prendendo il nostro coniglio disossato e mettendolo nel tagliere. All'interno del coniglio andremo a sistemare la nostra pasta di salsicce, le olive denocciolate e andremo ad aromatizzare con finocchietto rosmarino e qualche pezzettino di sabbia. Per dare un ulteriore profumo andremo a grattugiare con una microplane un po' di scorza d'arancia, sale, pepe. Arrotoliamo il nostro coniglio in modo che la farcia rimanga ben compatta all'interno. A questo punto, per poterlo tenere unito, lo andremo a bardare con della pancetta e quindi leghiamo con dello spago. andiamo a togliere lo spago in eccesso, condiamo nuovamente con un po' di sale, un pochettino di pepe e ancora un po' di scorza. Una volta pronto il nostro coniglio, lo andremo a inserire nella placca e a condire con dell'olio extravergine. Una volta pronto il nostro coniglio, lo andremo a cucinare nel forno a legna in diretta fontana, gusto 80. La cottura sarà di 45 minuti a 280 gradi attivando la ventola per rendere più omogenea la cottura. Grazie a tutti.